Carissime e carissimi, mi collego per un incontro finale con voi da Second Life. So che avreste voluto frequentare di più questo luogo virtuale. La prossima volta vi daremo nuove occasioni. Grazie per la partecipazione competente al corso ANITEL 06 EAS 5 Sviluppo di competenze in ambienti digitali complessi. Il corso si è articolato in otto moduli, organizzati in otto quadri concettuali. 1. Ambienti digitali complessi EAS competenze didattica 2. Dalla complessità alla semplicità 3. Il principio della continuità 4. Il principio della molteplicità 5. Il principio della selezione 6. Il principio dell'immersività 7. Il principio della riorganizzazione semantica 8. Il principio della valutazione trasversale partecipata Vi ho fatto alcune proposte. Erano proposte operative suggerendovi strumenti, risorse, ambienti. Il cuore del corso era la progettazione di un EAS episodi di apprendimento situati, disciplinare e contestualizzato, da spendere in classe e da condividere con i colleghi. Il corso è ormai concluso e chiude stasera, 15 giugno, alle ore 23.50. Ho avuto modo di apprezzare la vostra capacità di padroneggiarvi con le esperienze educative e di mediare i supporti teorici con le pratiche e sperimentazioni. L'idea della Flipped Classroom e degli EAS hanno illuminato le scelte da voi fatte in rapporto alle competenze in uscita degli studenti. Con il project work finale, la scheda metà riflessiva e il diario di apprendimento, abbiamo portato a termine la formazione. Un saluto a tutti e un augurio di buona estate. Ciao! Grazie 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 Grazie